Le macchie delle coserie sono quasi l'una meno un quarto e oggi sono sceso per un po' di lavori specialmente per questo lavoro abbastanza certosino cioè quella di mettere questi sostegni ai pomodori alle piantine di pomodori io in passato ho messo dei pali grossi poi ho messo il filo oppure metto dei pali grossi diciamo tre per ogni fila o quattro e poi delle canne trasversali questo è il metodo quello più antico nostro quello più tradizionale anche se qualcuno mette addirittura i pali però le canne quando sono appena tagliate di minima c'è verso gennaio poi diventano veramente molto forti quindi anche una canna può reggere triangolamente due piantine di pomodori perché poi per legarle non è difficile perché basta poi portare in altezza in verticale quindi poi il lavoro diventa tutto sommato più comodo dopo e anche c'è più aria intorno alle piante sennò diventa tutto un casino adesso ho messo diciamo le canne che sono state appuntite poi utilizzo un martello per convicarle dentro così non utilizzo il palo di ferro che in qualche modo è pesantello anche perché quando li metto in questo modo col martello questo utilizzo questo martello di mezzo chilo diciamo di 100 grammi questo qua dove i coppi così sopra così rimangono conviccate nel terreno in maniera stabile non finisce qua perché adesso se vedete sono un pochettino non proprio tutta la stessa misura perché ovviamente il terreno non è tutto quanto omogeneo quindi quando viene vengono convicate non è proprio tutto uguale tra parte questo nella prossima occasione saranno messe delle canne trasversali quindi delle canne diciamo all'altezza massima verranno legate poi una piccola motosega si possono tagliare diciamo tutti più o meno della stessa misura così diventa un lavoro pulito e ordinato in più quelle canne trasversali avrà avranno il compito di reggere meglio quindi fare in modo che il sistema sia più diciamo così più garantito perché un po di vento c'è sempre poi quando comunque si caricano i pomodori sono pesantelli ho provato col filo ma il filo poi tente in qualche modo bisogna tirarlo molto forte poi comunque lo devi alzare più volte e quindi il lavoro c'è uguale alla fine non è che diciamo che la stessa cosa come impegno però questo sistema lo ritengo meglio perché è più tagliato nella verticale in modo se si può anche passare dietro con una piccola zappa e nel 5 modo sembra tutto un pezzo e non va bene per vi saluto io ho anche fatto un lavoretto un'altra parte adesso forse va dall'altra terra per abbeverare nel caso ce ne fosse bisogno perché c'è stato un piccolo acquazzone ieri un po di grande né poi sparita subito valuterò se devo dare l'acqua meno grazie l'attenzione delle macchie delle coserie da michel expert